Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia. Abbiamo qui una Wrangler Ceylon J dell'88, motore 2.5, ci è stata portata dal cliente in apparenti condizioni buone e in realtà, come spesso succede su questo tipo di vetture, che comunque per quanto tenute bene sono vetture vecchie e quindi hanno bisogno di manutenzione importante, abbiamo scoperto che c'erano tante cose che andavano migliorate. Per quanto riguarda il motore, adesso interveremo sia sulla distribuzione pompa dell'acqua, varie perdite dalla coppa dell'olio, quindi cerchiamo un po' di sistemare quello che c'è che non va, che è più evidente. La parte molto importante sulla quale siamo andati a intervenire è anche l'assetto, nel senso che ci è stata presentata e non aveva, è stata rimossa la barra stabilizzatrice, era stato fatto un assetto in qualche maniera e abbiamo cercato di metterci una pezza ottimizzando le cose che mancavano, non aveva la panora d'anteriore e quindi la precisione di guida era pessima. Abbiamo cambiato tutta la tiranteria di sterzo perché era piena di giochi, abbiamo cambiato i ball joint che sono i perni sui fuselli, tutti interventi se vogliamo di manutenzione straordinaria, in realtà in questo caso ordinaria perché la vettura ha i suoi anni e il precedente proprietario probabilmente non ci ha dato molta attenzione. Contiamo di riportarla indietro sostanzialmente di una ventina d'anni almeno come livello di manutenzione, sono lavori che noi facciamo in maniera continuativa, su questo tipo di vetture siamo decisamente specializzati, io stesso ho un YJ quindi se mi fai toccare un pezzo al buio del YJ ti dico che cos'è, anzi il mio YJ è quello lì. Tornando a questa è proprio un tipico lavoro che facciamo noi, posso darvi moltissimi consigli su quali sono le priorità di intervento, noi normalmente come metodo prendiamo in carico la vettura senza alcun costo da parte del cliente, ve la guardo completamente dall'inizio alla fine e ti dico guarda se fosse la mia farei questo tipo di interventi, poi in base anche all'entità dell'intervento, anche all'importo e quant'altro decidiamo insieme le priorità e man mano la riportiamo a delle condizioni ottimali. Se vuoi contattarmi per questo tipo di informazione il sistema ideale è quello di WhatsApp, il mio numero di WhatsApp è 338 73 12 725, alla prossima! Grazie a tutti!